Se ne parla molto in questo periodo, a volte contrapponendoli alla politica fatta guardando le persone all'altezza degli occhi. Io li uso, i nuovi mezzi di comunicazione, i social network, mi piace molto. Ho visitato in due anni 171 comuni, quindi non mi pare che si possa dire che non vado in giro, anzi sono sempre in giro, però magari mentre ti sposti puoi anche comunicare con persone che hanno scelto di parlare con te attraverso strumenti diversi. Mi sembra che sia una possibilità nuova di dialogo che abbiamo con i cittadini, un dialogo che ha fatto anche di ascolto, oltre che di nostre idee che mettiamo in rete, che consente di avere poi interlocuzioni anche molto lontane. Mi ha impressionato vedere quanti americani ci hanno scritto sulle cinque terre, evidentemente questa ferita li ha molto colpiti, molto impressionati. Secondo me è strano che ci stupisca ancora che la politica li usi. Vedo che i giornali sottolineano ogni volta che noi facciamo qualche annuncio via Twitter o via Facebook. Mi sembra qua assolutamente l'intervento normale, uno strumento molto importante che si affianca ad altri strumenti di comunicazione, che non li sostituisce e che soprattutto non cancella il rapporto diretto che noi abbiamo con tanta gente ogni giorno.